Occhio eh, largo eh, falli, sì sì, fallo passeccolo, vai con lui eh che va, così, con lui eh. Con lui, con lui, seguite. Poi lasceremo ovviamente la linea ad Augusto Pizzolato inizio all'arrivo. Ecco lo che sta passando il corrido d'estate a un buon vantaggio, 8 secondi sui miliardi con i seguitori per il numero 92. Signori ci siamo! Vince, solitario, la quarta tappa del Giro del Friuli, Simone Andreetta! Quinta stagionale per il vice campione italiano su strada. Vincenzo, solitario, la quarta tappa del Giro del Friuli, Simone Andreetta! Vince, no, solitario, la quarta tappa del Giro del Friuli, Simone Andreetta! Solitario, la quarta tappa del Giro del Friuli, Simone Andreetta! Quinta stagionale per il vice campione italiano su strada. Simone Andreetta, tappa e maglia dei giovani, un bilancio più che positivo. Sì, oggi è andata veramente oltre le aspettative perché comunque l'obiettivo era di prendere la maglia dei giovani, però sinceramente non pensavo di fare una tappa così perché qui in finale ho visto che erano un po' tutti al gancio, sono riuscito anche a riprendere il russo e a staccarlo. Oggi veramente è una giornata per me spettacolare. Signori, ci siamo! Vince, solitario, la quarta tappa del Giro del Friuli, Simone Andreetta! Quinta stagionale per il vice campione italiano su strada. Quinta stagionale per il vice campione italiano su strada.